Ciao a tutti, sono qui al San Paolo, ho appena svolto l'ultimo ritocchino di preparazione prima della finale di stasera, volevo ringraziarvi davvero per tutti i messaggi che mi avete inviato e per il tipo che mi avete fatto e che sono sicura che farete stasera. Vi aspetto alle 19.50 stasera, mi raccomando ho bisogno del vostro tipo per correre forte, davvero, grazie, grazie a tutti.